ciao e benvenuto nel mio video corso stella di natale in questo video corso vi insegnerò a realizzare una stella di natale in pasta di zucchero anzi precisamente in gun paste eccola per prima cosa studieremo insieme una stella di natale vera per capirne le caratteristiche e riuscire a riprodurla al meglio dopodiché vi insegnerò i metodi che io conosco per inserire un wires all'interno di un petalo che cos'è un wires il wires è quel fil di ferro che viene utilizzato appositamente per la realizzazione di fiori in pasta di zucchero vi farò vedere come assottigliare al massimo un petalo per renderlo il più realistico possibile coloreremo insieme la pasta di zucchero nei colori necessari dopodiché procederemo alla realizzazione del fiore vero e proprio vi farò vedere come ottenere i petali sia tramite l'utilizzo di cutter sia senza procederemo poi alla colorazione sia dei petali che delle foglie in questo caso vi insegnerò a colorare sia grazie all'utilizzo dell'aerografo sia grazie ai colori in polvere creeremo delle sfumature per rendere il fiore il più realistico possibile e procederemo al suo montaggio vedremo insieme i materiali e i metodi più idonei per la realizzazione di fiori realistici in gunpaste non ci resta che vedere insieme come realizzare la mia stella di natale buon lavoro grazie a tutti